questa volta già ve lo dico mi sono sbizzarrita non ci saranno solo vestiti che solitamente sono la cosa che ordino più frequentemente da cider perché mi piacciono tantissimo ma mi sono sbizzarrita anche nei top e addirittura in un pantaloncino signori vediamo se almeno cider riesce a darci la soddisfazione di avere delle taglie decenti per persone che non sono filiformi quindi niente partiamo vediamo un po' cosa ha da offrirci questo primo capo sempre imbustato con la bustina di cider ho preso una L questa volta sappiate che ho cercato rispetto all'altra volta di prendere delle taglie siccome cider appunto è molto giusto nelle taglie non ho esagerato solo alcuni capi di cui i tessuti non mi sembravano particolarmente elastici quindi non volevo evitare che appunto fossero enormi li ho presi XL mentre tutti gli altri li ho presi L come in un negozio normale così riusciamo finalmente a verificare questa cosa primo capo è un vestitino ragazzi è meraviglioso questo qua super cottage core con questo tessuto proprio tipo tappezzeria con le rose super vintage mi piace tantissimo col corsetto frontale e sotto appunto la vestina appunto la gonna cosa bellissima che il primo tessuto è trasparente ma sotto sempre sotto gonna quindi perfetto dietro a la zip le manichine non sono in questo caso le bretelline non sono irregolabili però mi sembra forse un pelino corto non che questo tipo di vestitini secondo me se usati come maglia lunga con un bikers che vedo non vedo ci sto da dio però potrebbe essere un pelino corto ora lo vedremo indossato già vi dico che tutte le cose che hanno la zip in questo momento sono a casa da sola quindi cercherò di tenerli su io ma in realtà appunto non so se sono capace di tirarvela su da sola quindi niente già piccola premessa di ciò però mi sembra bellissimo e secondo me qua è proprio regolabile in base a quanto se no avete mi sembra top direi andiamo a provare ok di lui sono totalmente follemente innamorata anche lui non è su fino in alto quindi sopra cioè si può stringere ancora un pochino bellissimo amo questo tessuto che sembra tipo carta crespa non so come spiegarvi tipo tutto arricciato ha una consistenza bellissimo molto da principessa mi piace proprio tantissimo ed è tutto regolabile quindi perfetto per ogni boobs come mi anticipavo sicuramente un pelino corto arrivo un po' alle chiappe secondo me con un biker sotto uno short o delle belle calze secondo me è veramente top però è proprio proprio carino lo adoro altra bustina intravedo del verde delle farfalle amo questo qua l'ho preso in taglia L questo qua essendo un corsetto spero di aver fatto una giusta scelta in taglia di non esserci compressa dentro perché appunto magari nei corsetti che hanno un tessuto più rigido tendo a prendere l'XL però vediamo un po' come mi anticipavo appunto è un corsetto è fatto così nella parte davanti ha questo scollo diciamo a V e a tutte le cuciture proprio appunto del corsetto e ha questo tessuto meraviglioso anche lui leggermente spesso però non caldo con i fiori e le farfalle che io amo immensamente di questo verde salvia le maniche sono assolutamente regolabili perché ci fate voi il fiocco quindi stupendo e ovviamente ha dietro la cerniera quindi appunto dovrebbe adattarsi bene speriamo speriamo mi stia bene ma mi piace tantissimo potrebbe essere forse leggermente piccolo speriamo di no però meraviglioso allora lui è anche stupendo qua fa un po' di fetto perché non è su fino in cima perché non ci riesco da sola però raga quanto sono carini questi dettagli le manichine col fiocco adoro appunto qua un po' largo però mi piace questo tantissimo anche se non avete boobs rimane super compresso quindi non lo so mi piacciono molto queste cose che fanno tipo effetto tutto schiacciato secondo me è bellissimo cioè è proprio figo anche lui dovrebbe essere un vestitino si intravede del bianco dei limoni molto mediterraneo molto mediterraneo mi piaceva si mi ricordo bene è un vestitino allora aspettate trovo il modo di farvelo vedere ok ha questo taglio frontale con il nodo sul seno e diciamo la finestra sotto il sotto il seno appunto mi piace da morire che abbia questo dettaglio che sotto il seno ha la fascia cioè non è elastico però ha il bordo cucito mi piace da morire sembra proprio cioè cucito per bene cosa che amo e già lo sapete le spalline così in modo che coprano la ciccetta delle braccia mi piace da morire appunto bianco leggero dietro come sempre ha la cerniera e lunghezza normale confermo di aver preso L anche di questo mi piace tantissimo è veramente veramente bello andiamolo a vedere indossato allora questo bitino pazzesco stupendo segna i punti giusti è meraviglioso sopra mi sta un po' largo perché non riesco a tirarlo su fino alla fine ovviamente appunto sempre da sola però quanto è bello quanto la lunghezza di questo invece è perfetto arriva a metà coscia quindi ottima lunghezza veramente veramente figo mi piace mi piace proprio da impazzire mi da proprio vibe da amare lui è tutto total summer mini pacchettino per un mini toppettino allora anche di questo preso L ma temo che per il tessuto che ha ho fatto mali conti potevo prendere anche una taglia più piccola perché adesso vi mostro lui è fatto così ha le bretelline fatte tipo con questi pezzettini di tessuto pastello stracciato che fanno effetto tipo fiorellino mi piaceva tantissimo ha questa finestra qua diciamo subito sopra al seno che lo rende molto molto particolare la cosa è che essendo il tessuto elastico è veramente cioè super allungabile e secondo me questi top sono carini quando sono belli asciutti sul corpo cioè rimangono belli aderenti lo andiamo a provare però secondo me potrebbe essere un pelino largo però mi piace tantissimo dettaglio che io ho notato da dentro e che ha queste cuciture a mo' di corsetto proprio questo dettaglio sul davanti che mi piace tantissimo è veramente veramente carino allora questo come immaginavo è un po' troppo elastico infatti qua fa leggermente difetto cioè è elastico quindi devo prendere una taglia ancora in meno mi piace tantissimo questo dettaglio forse l'ho rigirato tutto no sì è giusto mi piace da morire questo dettaglio è proprio carinissimo l'unica cosa è che essendo così elastico se non avete tette fa una forma strana quindi non lo so non mi convince troppo su di me però è bello cioè è proprio bellino morbido leggero mi piace tantissimo questa appunto questa forma vorrei tirarlo un po' qui in giù ma so che se facessi così probabilmente cioè mi esce tutto però mi piacerebbe questa cosa qua fosse più tirata cioè forse le manichine anche leggermente larghe quindi magari toglierò un centimetro di spalle però così è bellissimo cioè mi piace sono proprio soddisfatta ho fatto come un bel haul bustina coloratissima per un altro coloratissimo top allora in questo momento io sotto non ho il reggiseno spero di riuscire a farvelo vedere senza cioè coprendo se no ve lo farò vedere con sopra questo top perché adesso capirete lui è uno di quei top che vanno di moda quest'estate tema uncinetto è stupendo penso di aver preso allora si normale che vesta più corto e più largo perché appunto è pensato per metterci sotto un qualcosa perché voi dietro adesso vedete il resto della magliettina però ovviamente le boobies vi possono uscire cioè è tutto aperto lo trovavo stupendo c'era forse in due colori diversi ma è tutto ricamato cioè è bellissimo secondo me con un reggiseno carino che mi piace che si veda o un body molto molto carino lui sopra a coprire pazzesco cioè mi piacciono un sacco queste cose ad uncinetto veramente uno dei pezzi clou di questo haul e l'ho adorato allora questo top come vi dicevo ve lo mostro con l'altro sotto perché come vedete si vede tutto bellissimo mi piace da morire penso che sia carinissimissimo secondo me con un bel reggiseno lui fa una figura pazzesca cioè è bellissimo lo adoro cioè mi piace proprio proprio carinissimo non so adoro queste cose uncinetto sono innamorata arriviamo al mio pezzo preferito di questo haul che spero mi stia bene è un completo due pezzi ebbene si avete ovviamente i pezzi si possono prendere anche singolarmente però Sider ha anche dei completini abbinati ed è la prima volta che mi innamoro follemente di uno di questi allora il pantaloncino l'ho preso XL ma vedendolo così potrebbe essere un pelino largo in vita questo qua il motivo è di un tessuto anche lì un po' spessotto però secondo me non è caldo cioè ci sta tutto geometrico su questi colori caldi bellissimi molto hippie come stile il pantaloncino teoricamente è a vita semi alta e ha queste gambe larghe in modo che appunto non sia troppo asciutto addosso ha il bottoncino ha la zip ha le tasche cioè sono fatti da dio ma adesso vi mostro il top cioè loro due insieme sono secondo me la fine del mondo lui è il top lui in taglia L anche stesso motivo geometrico ha le cuciture sulle coppe ma non va a segnare troppo quindi anche se avete una coppa di reggisena diciamo più larga secondo me non dà troppo fastidio non dà troppo nell'occhio mi piace la cucitura doppia quassù spalline non regolabili dietro ovviamente ha la cernierina ma raga secondo me la parte più bella sono queste nappine che ci sono sotto cioè secondo me è pazzesco lui è proprio bello adoro tutto ciò che è rosso quindi lui mi piace da morire sono contentissima non perdiamoci in chiacchiere ve lo mostro indossato perché lui mi fa volare ok questo completino come immaginavo è la fine del mondo mi fa volare è bellissimo l'unica pecca è che ovviamente ho sbagliato taglia il pantaloncino mi sta leggermente largo quindi lo terrò da dietro però per farvi capire è a vita super alta super morbido arriva tipo qua non a metà coscia un po' più però anche per chi ha le cosce che strusciano perché abbiamo le cosce un po' più cicciotelle non importa non toccano non dà fastidio ma raga cioè secondo me è bellissimo mi va proprio impazzire ahà altro vestito ovviamente non poteva mancare un vestito nero ma adesso vi mostro perché voi vi direte ma anzi ve lo mostro prima voi lo guarderete direte ma è uguale a quello di prima vi dirò sì quasi perché mi piace tantissimo questa cosa a corsetto con i fiori da morire ovviamente è tutto regolabile nella parte frontale quindi potete appunto allargarlo stringerlo ha queste mini coppe per il seno che secondo me se avete un seno molto piccolo come il mio ci sta se no potrebbe essere un po' difficile ha le spalle che scendono giù ma le maniche raga sono tutte trasparenti sono cioè meravigliose anche lui come altro potrebbe essere un pelino corto però mi piace da morire e dietro ha ovviamente la cerniera per facilitarvi nel chiuderlo e nell'aprirlo però lui è bellissimo mi dava un vibe un po' gothic un po' cute è stupendo ragazzi allora lui stupendo mi fa sentire proprio un po' una principessa non riesco a tirarlo tutto su da sola perché proprio non ci arrivo ma cosa che non ho notato vabbè a parte che qua si può regolare quindi è perfetto che potete eventualmente regolare anche il corsetto perché anche lui ha un nastro che vi permette di stringerlo e allargarlo come preferite cosa che secondo me è top in questi vestiti perché magari uno ha una vita un po' più stretta o cose del genere oltre alla cerniera stringe o allarga ad esempio ed è perfetto come vi dicevo penso sia leggermente corto vabbè io sotto ho i pantaloncini però mi arriva proprio un po' a pelo chiappa quindi è un po' corto forse con dei biker sotto rimane comunque bellissimo perché è nero su nero non si nota però è proprio giustino bellissimo però sono innamorata follemente di queste maniche lui mi piace tantissimo è veramente veramente figo next one sempre un top in questo pan non vi domandate perché ho preso tutte queste cose pan non lo so neanche io comunque la presentaglia L purtroppo c'era anche nero lo volevo nero lo preferivo nero ma purtroppo era terminato quando io l'ho ordinato penso sia disponibile di nuovo però va bene ho detto cambiamo un po' però non diceva tantissimo la forma questo qua è il top davanti è così a fascia diciamo incrociata si incrocia sul collo il collo ovviamente ha i bottoncini per tenerlo su ovviamente non rischiate che tutto si apra perché le due parti davanti ragazzi sono fissate quindi si fa questo effetto appunto come i top che vanno di modo dall'anno scorso dove ve lo allacciate tutto dietro perché il retro è tutto aperto lo allacciate come volete voi con questi nastroni la cosa appunto è che non rimane tutto aperto quindi non rischiate che vi esca nulla lo mi piaceva tantissimo come forma speriamo mi doni anche addosso solitamente le cose con questo scollo qua tipo all'americana mi stanno particolarmente bene quindi speriamo che anche questo sia così insomma altro top lui mi dava super punk vibes super gothic vibes non potevo lasciarlo lì anche perché era in saldo ed è questo top meraviglioso così a scacchini verdi, blu, neri sì i colori non sono proprio estivi però mi piaceva le parti davanti le coppe sono a forma di cuore adoro e le spalline ovviamente sono totalmente regolabili anche sotto queste diciamo balzette ma il retro è elastico quindi ho fatto benissimo a prenderla L perché così non rimane troppo largo ed essendo elastico si può allargare quanto voglio e mi sta perfetto qualunque sia la dimensione della mia cassa toracica insomma perfetto cioè lui è bellissimo e l'ho pagato pochissimo perché era in saldo costava tipo 10 euro se non erro è al 50 quindi lo adoro ok questo qua è la fine del mondo cioè mi piace tantissimo trovo che sia carinissimo ovviamente ho stato anche le sue balzettine mi piace tantissimo poi appunto il fatto che sia elastico lo rende super morbido cioè si può ancora allargare non schiaccia cioè è perfetto è bellissimo adoro le coppe a forma di cuore amo amo immensamente ah ecco cosa che mi sono dimenticata di menzionarvi è che da oggi 17 giugno che voi siete vedendo questo video sono iniziati summer sales quindi ci sono già i primi sconti e troverete già un sacco di roba che magari io ho pagato a prezzo pieno ho preso a prezzo pieno che sono 50 più magari vecchie collezioni le nuove estive trovate un sacco di roba appunto con un sacco di sconti quindi a maggior ragione fatevi un giro sul sito di cider ma non ci incistiamo e passiamo all'ultimo l'ultimo pacchettino che ci rimane l'ultimo pacchettino è una camicetta meravigliosa è una camicetta super crop super corta bellissima con queste maniche a sbuffo larga in modo che appunto sia tutta svasata insomma un po' oversize come piace a me anche di questa ho preso la L penso che forse avrei potuto prendere l'XL ma adesso però proviamo indossata prima di valutare davanti a queste due enormi strisce di tessuto che servono per andare a fare il giro intorno o a fare un gigantesco fiocco davanti perché mi piaceva tantissimo anche l'idea del fiocco che scende giù non lo so mi piaceva da morire l'idea non lo so fatemi sapere che ne pensate adesso ve la mostro indossata perché secondo me indossata ha l'effetto diverso allora io un po' triste per questa camicetta perché è spaziale è bellissima mi piace da morire tra l'altro stupendo il fiocconi ma la cosa è che è super crop cioè qui finiscono le mie boobies e per farvi capire è proprio pelo cioè meno male che non ce l'ho però al momento in cui alzo le braccia cioè mi esce tutto è stupenda cioè per sia oggettivamente meravigliosa appunto sto fiocchettone qua sotto pendente mi fa impazzire però non lo so è poco sicura però è molto attirata quindi non c'è non c'è il rischio che escano troppo frequentemente non lo so però la trovo comunque bellissima cioè mi piace mi piace proprio fatemi sapere chi ne ha pensato di questo detto ciò siamo giunti alla fine anche di questo summer haul firmato Cider che ringrazio ancora per questo gigantesco ben di dio di vestiti meravigliosi continuo sempre a consigliarvi Cider perché oltre a essere un brand comunque un po' più etico dei classici di cui si parla appunto sul web hanno dei materiali delle fatture che sono veramente meravigliose a parer mio quindi fateci un salto anche se costano un pelino di più dei classici appunto vi ricordo di nuovo che da oggi appunto sul sito di Cider trovate i saldi estivi quindi fatevi un giro mi raccomando nei commenti fatemi sapere come sempre qual è stato il vostro capo preferito che cosa voi avete già comprato se già conoscevate il sito se è la prima volta che è capitata in uno dei miei oldi Cider e niente e sempre nell'info box trovate link a tutti i miei social dove sono sempre super attiva vi aspetto anche lì noi ci vediamo in un altro video e vi auguro una buona giornata ciao ciao